Devo dire, io non vi ho presentato Amos Alaranti che è stato con noi, scusate ho parlato di nomi, prima vi presento, non sono un presentatore, ogni tanto mi dimentico di qualcuno, Amos è stato con noi per pochi mesi, ma questo non vuol mica dire, anche lui ha dato il suo apporto ai nomadi, io lo ringrazio per essere venuti stasera, mi fa veramente piacere, grazie Grande risaie, e filare di pio a pio, e allora in solte, Allora in solte, non si vuoi che, che sia il paradiso, mai parece, non è sonato, Allora in solto, e sia il paradiso, non si vuoi che, che sia il Feelsbeva Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.